shanta lughi intanto benvenuta in puglia benvenuta san giovanni rotondo dalle passerelle di moda al ring è il caso di dire il passo è stato breve sì beh non è stato brevissimo c'è un lungo percorso comunque adesso sono qui come è nata questa passione dunque sempre mi sono sempre piaciute le arti marziali poi all'epoca vivevo negli stati uniti a new york e avevo già fatto prima karate taekwondo e poi nel basement di una palestra cercavo anche lì un arte marziale e mi hanno detto guarda ci sono questi questo corso vai a provarlo e l'ho provato un giorno e poi mi sono innamorata e non ho più smesso praticamente in pratica è rimasta in thailandia sì sì poi da lì un giorno ho deciso sono andata in thailandia per una vacanza training e che poi invece da un mese sono diventati cinque anni in thailandia sono rimasta cinque anni ho vinto il mio primo titolo mondiale dopo una circa un anno e poi alla fine sono rimasta lì come combattuto a livello internazionale sempre come base a bang bangkok in thailandia ecco questo è uno sport particolare quali sono gli eventuali benefici che apposta ma dunque ci sono diversi diversi benefici a parte il beneficio fisico c'è anche appunto un bene un beneficio psicologico appunto perché in questo fatto di affrontare delle sfide quotidiane dei duri allenamenti ti porta ad avere una grande poi fiducia in se stessi in te stesso e la fiducia nella capacità poi di affrontare qualsiasi ostacolo poi nel che hai anche nella vita in questo periodo sta girando un po nelle scuole soprattutto anche qui a san giovanni rotondo qual è il messaggio che sta diffondendo faremo un tour delle scuole qui a san giovanni rotondo e il messaggio che vogliamo diffondere appunto è per i giovani è appunto questa questo beneficio dello sport che può avere per per i giovani appunto perché soprattutto oggi ci sono diversi casi di giovani anche di suicidi di vari tipi di come adolescenti a parte poi la violenza anche cioè sia anche tra di loro ma anche violenza anche sulle donne ecco vogliamo diffondere un messaggio poi sia per i giovani anche per le donne come appunto un arte marziale come la muay thai può portare proprio a questa fiducia in se stessi nella propria forza e anche appunto per per le donne nella propria forza non solo di potersi difendere in una strada buia ma anche proprio nella contro magari della violenza nella vita quotidiana che può essere nascosta in qualunque momento un posto stefano debbonis perché chantal ughi proprio qui a san giovanni rotondo chantal e qui a san giovanni rotondo per una testimonianza per la vita incontreremo tanti studenti incontreremo la città e proprio per portare raccontare la sua esperienza di come lo sport e può essere un uno strumento per aiutare un percorso in una crescita personale diciamo ecco oggi e domani a san giovanni rotondo per incontrare soprattutto gli studenti si iniziamo stamattina è un tour di otto appuntamenti quindi iniziamo con le scuole poi faremo una tappa nella pediatria oncologica poi faremo lo stage verso la il centro sportivo gold center club e poi la tappa finale è presso il chiostro comunale sabato 13 maggio alle ore 18 quindi vi aspettiamo numerosi proprio perché siamo convinti che entrare nella vita degli altri in questo caso di chantal è un modo per comprendere come migliorare la propria diciamo il messaggio che lancerete da san giovanni rotondo ai giovani soprattutto è quello di di praticare più sport possibile perché oggi più che mai vi è un'emergenza sociale c'è bisogno di di frequentare il proprio corpo di come di fare con il proprio corpo e di fortificarsi dentro e fuori